Oh, questa è la mia auto preferita! È gialla! Oh no! Stai bene? È la mia pancia! Ok! Devo andare in bagno! Oh, bisogna muoversi! Veloce! Ce l'abbiamo fatta! Mettiti comodo! Non posso! Oh, giusto! Adesso? No, non riesco ancora! Trovato! Questo potrebbe aiutare! Non so usare il bagno! Ho capito! Torno subito! Sbrigati! Forse posso farcela! Proprio quello che ci serve! Aiuterà Jake? Come si usa questo coso? Non così! Aspetta! Faccio del mio meglio! Sei davvero buffo! Ma che cattiva! Tranquillo! Il mio amico può aiutarti! Wow! Ma come? Prima devo dargli da mangiare! Ha molta fame! Wow! Mangia tutto! Poi va in bagno! Oh! Quindi è così che si usa! Sta mangiando il suo cibo! Poi fa la cacca! Che schifo! Ma è utile! So usare il bagno ora! Ecco fatto! Wow! Meglio andar via! Grazie! Ciao ciao! Sta funzionando! Oh no! Un incidente! Che carino! Ehi! Spostatevi! Dammelo! È ora di colazione! Ok! Ho questo! Devi mangiare tesoro! No! Voglio giocare! Ho detto di no! Mangia tutto! Io prendo questi! Oh! Che schifo! Oh! Però potrei usare questo! Vroom! Sono un pilota! Il miglior pilota del mondo! Tesoro! Ti piace? Oh no! La tua colazione! Non va bene! Ma ho un'idea! Grazie! Questo sistemerà tutto! Potevo pensarci prima! Così non rovescerà nulla! Wow! Che cos'è? Lo voglio! Aspetta tesoro! La riempio con la colazione di Jake! Yeee! Ecco a te! Oh! Guarda! Grazie mamma! Non c'è di che! Niente più sporco! Che bello! Essere il miglior pilota mette appetito! Devo essere veloce! Vroom! Guarda questo dentifricio! Ce n'è tantissimo! Ciao Jake! Bravo! Devi lavarti i denti! Wow! Dai! Da dove spuntano questi tubetti? Jake! Che stai facendo? Con questo ho finito! Jake! Hai usato tutto questo dentifricio? Oh! Ciao mamma! Sì! Mi sto lavando i denti! Non è così che si fa tesoro! Che disastro! Tesoro! Metti giù il dentifricio! Perché? Proviamo qualcos'altro! Guarda che cos'ho! Che cos'è? Metti il dentifricio qui dentro! Poi lo attacchi al muro! In questo modo! Oh! Wow! Guarda bene! Inserendo lo spazzolino esce la giusta quantità di dentifricio! Così puoi lavarti i denti! Fantastico! Posso provarlo? Funziona mamma! Ce l'ho fatta! Bravo! Continua a spazzolare! Molto bene! Pronto per il bagno? Ti servirà la cuffia? No! La cuffia no! Non puoi farmi questo! I bambini sono difficili! Mamma! Guardami! Mmm! Idea! Rimpirò la cuffia con l'acqua! Sono un drago d'acqua! Il migliore! Respiro l'acqua! No! Ecco la tua cuffia caro! Ah! Proprio in testa! Sono tutto bagnato adesso! Ho sete! Voglio un po' d'acqua! Devo solo girare il rubinetto! Oh! Uffa! È troppo lontano! Mamma! Voglio un po' d'acqua! Oh! Il mio piccolo mi chiama! Andiamo a vedere! Cosa c'è? Mamma! Ho sete! Tranquillo! Ti aiuto! Ecco a te! Un bicchier d'acqua per il mio piccolo! Come si dice? Grazie! Questo libro non mi convince! Mamma! Oh! Sembra che gli serva aiuto! Andiamo a vedere! Mamma! Acqua per favore! Va bene! Un secondo! Ecco a te! Un bel bicchiere d'acqua! Sì! Acqua! 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 Mamma! Oddio! Che voce! Non finirò mai questo lavoro! Cosa c'è, caro? Ancora acqua! Va bene! Aspetta! Torno subito! Guarda che ti ho portato! Wow! Ecco a te! Un piccolo dispenser tutto per te! È della tua misura! Così lo usi facilmente! Oh! Un pinguino! Ti spiego come usarlo! Tieni il bicchiere così e premi il pulsante! Wow! Guarda quante bolle! Ecco fatto! Acqua solo per te! Ne prendo un altro po'! Bravissimo! Così si fa! Sono un cowboy! Cavalco i tori! Rodeo! Devo andare in bagno! Mi piace il colore di questa stanza! Devo andare in bagno! Nessuna mamma è ammessa! Ma che cosa gli prende? Mi serve la carta igienica! È un mostro di carta igienica! Mi ha preso! Mamma! Il mostro di carta mi ha catturato! Cosa? Che ci fai avvolto in tutta quella carta? Mi ha preso! È finita! Basta! Non la voglio più! Ok! Ok! Aspetta un momento! Molto bene! Ora ti spiego qualcosa sulla carta igienica! Vieni qui! Tutta questa carta! Oh! Palloncini! Sì! Seduto! Ti mostro come usarla! Bene! Ok! Prendi un po' di carta! Ma non troppa! Piegala per bene! Piegarla? Ok! Posso farlo! Molto bene! Ora usala in questo modo! Ta-da! Visto? Nessun mostro! Ora prova tu! Pulire i palloncini? Ok! Arriva la carta igienica! Oh! I palloncini sono il sedere! Oddio! Crescono così in fretta! Sedere a palloncino! Sedere a palloncino! Mamma! Posso avere una caramella? Sì! Adoro il cioccolato! Niammi niammi niammi! Potrei mangiare dell'uva, ma c'è del cioccolato qui! Un pezzettino non mi farà male! Mi coccolo un po'! Solo un altro! Ho quasi fatto con questo report! La ciotola è vuota! Cavolo! Ho mangiato tutto il cioccolato! No! Oh no! Non può essere! Si arrabbierà tantissimo! Mamma! Sono a casa! Devo fare qualcosa in fretta! Forse potrei usare l'uva! E se magari incartassi i chicchi? Tentar non nuoce! Proviamo! L'incarterò uno ad uno! Ecco fatto! Questo è l'ultimo! Ciao caro! Mi sei mancato! Mamma! È l'ora della merenda, vero? Grazie! Ciao ciao! Oh! Se ne va! Se ne sarà accorto? Ha un sapore strano! Vado a giocare con i dinosauri! Uh! C'è mancato poco! Via, fenicottero! Disegniamo sul palloncino! Fatto! Una faccina sorridente! Oh! Il mio piccolo artista! La faccia sul palloncino è divertente! Senti! No! Ora devo gonfiarlo di nuovo! Il mio palloncino! No! Il ventilatore ha ucciso il mio palloncino! Oh caro, non piangere! So come risolvere! Voglio il mio palloncino! Ok, ho il palloncino rovinato e uno nuovo! Metto uno dentro l'altro, così! E aggiungo dei brillantini all'interno! Dopodiché riempio il palloncino con l'acqua! Meglio non metterne troppa! E per ultimo userò un fiocco! Chiudo ermeticamente i palloncini, così che non esca l'acqua! Caro, guarda! Un nuovo gioco! Un nuovo gioco? Cos'è? Wow! Se lo premo escono le bolle! Ehi! Ci sono stelline dentro! Che carino! Il granchio ti prende! Ciao piccolo! Ti stai divertendo? Ti ho portato la merenda! Sì! Orsetti gommosi! Grazie! Mangio questo per primo! Miammi! Il mio preferito! Che carino! Ok, continua pure a giocare! Attenti! Arriva il granchio reale! Ora è diventato un granchio pirata spaziale! Oh! Oh! Pistole laser! Oh no! Gli orsetti! No! Che gli è successo? Sono appiccicosi! Che schifo! Mamma! Oddio! Che c'è? Che è successo? Gli orsetti si sono squagliati! Oh, capisco! Si sono sciolti al sole! Oh, eppure ho un'idea! Torno subito! Ok, inizierò con un piatto! Della carta forno e un tagliabiscotti! Questa stella ha una forma perfetta! La riempio con degli orsetti! Dopodiché li scioglierò! Ecco fatto! Iniziano a prendere forma! E per finire, metto un bastoncino! Non voglio più giocare! Sono triste! Voglio gli orsetti! Ecco a te, caro! Wow! Un lecca-lecca a stella! Miam! Ha lo stesso sapore degli orsetti! Cavalluccio marino spaziale! Assaggia! Mì! È il mio preferito! I polpi hanno troppi tentacoli! No, niente abbracci! No, non voglio alzarmi! Mi sa che mi tocca! Quanto vorrei restare a letto! Salvare il mondo? Ma scherziamo! Proprio ora! È il prezzo dell'essere un supereroe! Costume indossato! Pronto per la missione! Ma prima dovrei andare... Oh, oh no! Al bagno! Ecco dove! Dovrei farlo prima di indossare il costume! Devo solo allinearmi e... Molto meglio! Oh, oh, oh wow! La, 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 la... Fingerò di non aver visto! Oh, ora va meglio! Pronto per salvare il mondo! Ehi, ti vedo in forma! Ok, iniziamo questa giornata! Mi sento alla grande! Woo! Hi-ha! Aspetta, cos'è stato? Carta igienica? Ci vediamo, carta! Me ne vado! Pronta per lo show? Ciao, Mickey! Ciao, Dolly! Oh no! Un dinosauro! Wow! Che spettacolo! Mamma! Ho fatto una puzzetta! La posso sentire da qui! Oh, che odore! Ups! Devi imparare a usare il vasino! Le bimbe grandi fanno così! Guarda! Wow! Che ansia! E fai la cacca nel vasino! È molto semplice! Proviamo! Adesso! Ok, iniziamo! Guarda il mio cappello! Avrei dovuto immaginarmelo! No, cara! Ti ci devi sedere sopra! Mickey, fermati! Forza, cavallo! Che strano! In questo modo! Non si mangia! Serve per la cacca! Come sei cattiva! No, non piangere! Questa cosa è brutta! Voglio il pannolino! Aspetta! Dammelo! Metterò il pannolino nel vasino! Potrai continuare a farci la pupù! Oh, bella idea! Forza! Prova! Funziona! Non guardarmi! Oh, ce l'ho fatta! La mia bambina! Ottimo lavoro! Oh, guarda quante! Buttiamola! E in fretta! Ce l'ho fatta, mamma! Certo, mia cara! Oh, Mickey! Devo farla di nuovo! Nessun problema! Che imbarazzo! Non lo dimenticherò mai! Che noia! Hai visto cosa hai in mano? Ecco, bambine! State buone e tranquille! E ora che si fa? Si rende conto che siamo qui, vero? Ehi, lo voglio! Dammelo! Oh, che carino! E va bene! Mamma! E va bene! Prendilo! Ma! È colpa tua! Ma! Ellie è stata cattiva? No! È colpa di Mickey! Dove sono i vostri ciucci? Aha! Ora devo pulirli! Come farei senza questi? Ecco a voi, bimbe! Mua! Oh! E uno per Mickey! Bleh! Uh! Presi al volo! Ormai faranno sempre così! A meno che... Ho un'idea! Oh! Che cos'è? So come impedire che questi ciucci cadano! Legherò un palloncino al ciuccio! Wow! Intelligente! Assicuriamoci che il nodo sia stretto! Oh! Wow! Molto meglio! Questa festa è divertente! Prendi! Uh-huh! Adoro i palloncini! Auguri, bambine! Guarda quella torta! Non ci credo! Ed ecco che i ciucci se ne vanno! Ma non fa niente! Sono volati via! Mangiamo un po' di torta! Spero vi piaccia! Come sono fortunate! Oh! Il mio ciuccio! Uh-huh! Ha un buon sapore! Forza! Forza! Iniziamo! Adesso mai più! Voglio un fuoricampo! Mamma! Spostati! Uh-huh! Bellissimo! Scusa! Parla un po' più forte! C'è troppa confusione! Mamma! Sto guardando la partita! Che fastidio! Che stai facendo? Sono molto impegnata! Devi farmi da babysitter! E qui ci sono i biberon! Stai scherzando? Devo andare! Mamma! Torna qui! Grazie mamma! Bene! Siamo rimaste sole! Come sei carina! Anche tu sei carina! Lo so! Che problemi hai? Non è divertente? Ora che faccio? La la la! Smettetela di piangere vi prego! Sul serio! Smettetela! Oh no! Prese! Ok! Non era una buona idea! Non è poi così difficile! Vi va un po' di latte? Oh! Gnammi! Dammelo! È più difficile di quanto immaginassi! Un po' più vicino! Da questa parte! Ci sto provando! Ecco cosa mi serve! Un attimo! Avrei dovuto pensarci prima! Mi risolverà alcuni problemi! Ok! Ho il cappello e il latte! Iniziamo! Molto bene! Bevete! Così è proprio facile! Spero si addormentino presto! Anche a me serve una pausa! E' ora di fare la nanna! Oh! Come dormono! Hai fatto un ottimo lavoro! E lo puoi fare di nuovo! Oh! Come sei adorabile! Grazie! Aspetta! Parlavi al bambino! Cucci! Cucci! Oh! Un messaggio! Oh cavolo! Saldi! Arrivo subito! Devo andare! Ecco a te! Ma! Che succede? Mammina sta per spendere un sacco di soldi! Divertiti! Siamo solo io e te, caro mio! Fico! Oh! Hai i miei stessi occhi! Divertente! La la la! Un classico! Wow! Mwè! Mi sono lasciato trasportare! Oh! Ti va un po' di latte? Potrebbe aiutare! No! Non lo voglio! Fantastico! Ora che faccio? Aspetta! Ho un'idea! Mi servono queste forbici! Farò un taglio nella maglietta! E ci farò uscire la bottiglia! Proviamo di nuovo! Che buono il latte! Che giornata! È una cosa dolcissima! Ssss! Sennò si sveglia! Ecco! Va a spendere altri soldi! Sei il marito migliore al mondo! Ti lascio al tuo impegno! Oh! Ma che bello! Mmm! Quando un bimbo non vuole mangiare i broccoli! Quando un neonato non vuole dormire! Quando il suo pannolino è puzzolente! Non ti serve un supereroe! Ti serve... La supertata! Nessun lavoro è troppo difficile! Nessun compito troppo semplice! Sono sempre pronta! Iniziamo! Wow! È così buio! Dove sono? Cos'era quel rumore? Chi c'è lì? Voglio la mamma! Oh! Che tristezza! Adoro le commedie romantiche! C'è qualcosa che non va! È ora di entrare in azione! Oh! Una moneta! Cos'è stato? È il mio giorno fortunato! Wow! Chi sei? Posso avere una patatina? Non ci siamo! Via da qui! Ciao! Ho sbagliato Mira! Ma cosa? Fico! Preso! Cosa è successo? Oh! Wow! È incredibile! Un bel voto! La mamma sarà orgogliosa! Mi merito un regalino! Me lo sono guadagnato! Cosa pensi di fare? Passami il compito! Sono stato bravo! No? Vedremo! Il tuo voto, Matthew! No! Non può essere! Insufficiente! Come no! Basta solo cambiarlo! Così va meglio! Wow! Come sono furbo! A chi serve studiare? Stai mentendo! Bene! Mi hai beccato! Mi merito un bel voto per lo sforzo! Il crimine non paga! Devi studiare! Ma è così noioso! Ecco il tuo voto, Matthew! Di nuovo? Ma l'ho letto, quello stupido libro! Oh beh! Sistemerò anche questo! No, Matthew! Non va bene! Deve rovinare sempre tutto! Whee! Sono bravissimo con lo skate! Che confusione! Ops! Scusa, dinosauro! Ora capisco perché sono estinti! Oh, una macchinina! Gnam gnam gnam! No! Eh! In realtà è piuttosto rilassante! Quella macchinina è una facile preda! Andiamo! Wow! Guarda che roba! È così bella! Devo averla! Quasi! Quasi! La voglio! Oh! Così potrebbe funzionare! Ora posso raggiungerla! Quella macchina sarà mia! Ah! Non ci arrivo! Devo arrivare più in alto! Questi libri ora servono a qualcosa! Dovrebbero bastare! Ci sono quasi! Posso toccarla! Ancora un po'! Presa! Wow! Fantastica! Wow! È inaccettabile! Quante ragnatele! Oh oh! Oh! Ci è mancato poco! Non vedo l'ora di giocarci! Vroom vroom! Oh? No! Oh no! Devo fare in fretta! Lo sistemo più tardi! Preso! Mi hai salvato! La macchina! Beh! Che schifo! Che disastro! Come ha fatto a ridursi così? È meglio pulire! Ho i miei superpoteri! Sistemiamo questo disastro! Lavandino, sei il prossimo! E' un lavoraccio! Ecco! Adesso brilla! È un lavoraccio! Mettiamo via questi piatti! E' un lavoraccio! E' un'altra! E' l'ora della colazione! dei deliziosi cereali ecco a te torno subito ma come fa a sporcare così tanto è pazzesco o beh iniziamo a lavorare questo nella spazzatura ora i vestiti relax un po di tempo per me sono arrabbiato perché sempre a me voglio andare alla festa ma non posso andarci così non è giusto che c'è che non va c'è una festa guarda devo fare qualcosa capito so cosa fare è l'ora di una trasformazione restyling sta fermo sarà il mio capolavoro sbarazziamoci di questi questi vanno bene mi piace come sei dolce e anche bello ciao ragazze guarda metteo ciao balliamo balli bene metti bisogna tenersi in forma allenare i muscoli sono una macchina oh sì che bella sensazione che sessione intensa sei così forte anch'io sono forte non così veloce prima metti questi ok come sto perfetto andiamo inizio con il cerchio guarda un po ok un'altra volta bisogna muovere bene i occhi che ne dici di questo incredibile troppo facile pronto sì vorrei fare una sfida per favore non ci credo e questo ecco qualcosa di diverso voglio provare qualcos'altro troppo pesante mi aiuti guarda ci sto riuscendo senti come bruciano i muscoli sembra divertente è pesantissimo non riesco a tenerlo attenzione mi stava cadendo sui piedi meglio lasciarlo a me devi allenarti per usare questi pesi ci vuole tempo e pratica giochiamo ecco che arriva ottimo lancio prendi ok prova a prendere questo doveva fare male ok se vuoi giocare a questo gioco è stato un errore davvero preparati resta lì aspetta aspetta no non è stato divertente preferisco il ping pong ok rendiamo il gioco interessante più veloce dall'altra parte ho vinto oh mio dio no no oh oh non potrebbe andare meglio di così meglio mettere un po' di crema Non voglio scottarmi. Non ci arrivo. Oh, idea. Ehi, può aiutarmi? Certo, almeno credo. Userebbe il suo rullo? No, non esiste. Va bene, lo faccio da sola. Lei è matta, signora. Proviamoci di nuovo. Metto la crema sul rullo. E ora posso spalmarla sulla schiena. In effetti è piacevole. Come un mini massaggio. Ecco fatto. Wow, è proprio una bella idea. E ora torniamo ad abbronzarci. Wow, atterraggio complicato. Torna qui. Così questa è la terra. È proprio come nei film. Che figata. Dovrei investigare. Lasciatemi in pace. Iniziamo. Ma prima balliamo. Oh, sì. Aiuto. Guardate che mosse. Oh, che carino. Ah, state lontani. Sono innocente. Sì, sì. Dicono tutti così. Smettila di correre. Non ho il fisico. Mai. Ho capito. Almeno fermati per una pausa. Non sono fatto per le lunghe corse. Prendetemi se ci riuscite. Oh, sei in grossi guai. I terrestri sono strani. Dov'è andato? Laggiù. Pensi che sia un fantasma? Oh. Cos'è stato? Non mi piace. C'è qualcosa che non va qui. Sembra scomparso. Andiamo. Meno male che non hanno guardato in alto. Ah, un indizio. Come pensavo. Viene da un albero. Da questa parte. Au. La mia gamba. Che male. Niente paura, terrestre. Usa questo. Ok. Avvolgilo sulla gamba. Già va meglio. Grazie. Non ci scappi ora. Ma quello è un alieno. Come va? Adesso? Adesso balliamo. Senti che ritmo. Irresistibile, vero? Ma che succede? Non ho porti. Mi sento così vivo. Oh, sì. Lo adoro. Prendimi. Aspetta. Guarda. Corri. Inseguiamoli. Vai, vai, vai. E' bello essere all'aperto. Lo so, è perfetto. Dovremmo farlo più spesso. Mi sento tutt'uno con la natura. Eh, hai sentito qualcosa? Che cos'è? Carne fresca. Alex, ho paura. Svelta, nella tenda. Quello che ci serviva. Odio la natura. Guarda qui. Molto carini. Ma chi? Chi sono? Dove sono andati? Oh mio Dio. Non posso guardare. Che sono queste? Puzzano. Ma sono buone. Stanno mangiando le mie scarte. Che c'è qui? Ah, ma che fanno? Devi fare qualcosa. Se vengono qui... Oh, gnammi. Dammelo. No, va via. Lascialo. Ah, è la fine. Oh, carino. Lascia stare. Mio. Oh, succo. Bleh, bleh. È piacevole comunque. Wow, guarda. Non importa. Che sono questi? Sono bellissima. Lo voglio. È mio. Che cos'è quello? Preso. Suota un tubetto di dentifricio e taglia la parte col tappo. Poi ci serve un palloncino. Taglia il collo del palloncino. E infila il palloncino sul tubetto. In questo modo. Togli il tappo dal tubetto. E usa una siringa per prelevare un po' di sapone dal dispenser. Sarà più facile. Usa la siringa per riempire il palloncino. E rimetti il tappo. Guarda che cosa ho. Wow, belli. È proprio una grande giornata. Andiamo via. Penso se ne siano andati. Penso se ne siano andati. Guarda le nostre cose. Andiamo a casa. Buona idea. È fantastico. Che giorno perfetto. Ma che fa? Forza, vieni. È perfetto. No. E va bene. Prendi questo. Possiamo nuotare? Dai, sarà divertente. Con tutti quei pesci da vedere. No, non esiste. Oh, ho un'idea. Mettiamoci al lavoro. Sembra un buon posto. Facciamolo. È dura. Ma bisogna farlo. Sta venendo bene. Penso che ci siamo. Ok, metti il telo di plastica. Non fare pasticci. Spingiamolo giù. Così. Stendilo bene. Penso che ci siamo. Wow. Fantastico. Forza. Riempiamola. Guarda quanta acqua. E vai. Abbiamo la nostra piscina privata. Mettiti comodo. Ehi, beccati questo. No. Smettila. Ma che fanno? I ragazzini, eh? Che giornata. Fa caldo. Ci vuole un po' di fresco. Accendo il condizionatore. Perché non funziona? Che rabbia. Sto sudando un sacco. Che schifo. Devo fare una chiamata. Pronto? Mi serve il suo aiuto. Ehi, signora. Salve. Eh, salve. Aggiusti l'aria condizionata. Sì, certo. Lo farò. Stia tranquilla. Eh, sì. Devo comprare gli strumenti. L'avevo dimenticato. È un problema? No, torno subito. Torno subito. Ehi. Aha. Ecco ciò che mi serve. Questo barattolo va bene. Le caramelle per dopo. Prendo anche questo panno. Lo metto sotto l'acqua corrente. Deve essere bello bagnato. Così va bene. Ora lo pieghiamo. Poi lo arrotoliamo. E lo mettiamo nel barattolo. Ne aggiungo altri. Cosa? A me serve il fresco. Sta perdendo tempo. Signora, sono un professionista. Mi sa che sto per svenire. Questi vanno nel freezer. E ora aspettiamo. Credo che ci siamo. Riprendiamoli. È tempo di rinfrescarsi. Ehi, signora. Ok, è strano. Oh, è ancora qui. Provi questi. Che sciocchezza. Lo metta sulla fronte. Oh, che bella sensazione. È così fresco e rilassante. E ora il compenso. Posso? Dovrebbe andare. Sì, come vuole. Faccio solo il mio lavoro. Ci vediamo. Che pace. Solo io e i miei pensieri. Oh, una sirena. Sirena. Ciao. Ciao. Oh, sei la ragazza dei miei sogni. Ma che carino. Ok. Cosa? Che c'è? So cosa fare. La tua cotta ha problemi di gene orale? Nessun problema. Ti serve solo un rossetto. Rimuovilo dal contenitore. Prendi uno spazzolino e taglia il manico. Ora, metti della colla all'interno dell'alloggiamento del rossetto. Riempilo fino all'orlo e infila lo spazzolino all'interno. Ehi, prova questo. Avrai un alito fresco alla mente. E dopo ci baceremo. Ehi, dov'è andata? Oh, l'ho persa. Fantastico. Niente video prima della nanna. Non è giusto. Mamma non mi troverà qui. Ogni sera ha la stessa storia. Oh, mamma. Dammelo. Pensavo avrebbe funzionato. Che sta facendo adesso? Basta così. Alex, questo è troppo. Ma parliamone almeno. No, li voglio tutti. E anche il resto. Mamma. Ecco. Tutti quanti. Sul serio? Ok. Devo trovare un posto tutto per me. Mamma, rovina sempre i miei piani. Che stai facendo? Ho anche questo. Ma quanti ne hai? Mi piace la tecnologia. Ora va a dormire. Questo è quello che pensi tu. Sono sempre un passo avanti. Oh, ho un'idea. L'attacco allo schienale. Oh, oh. Mamma sta tornando. Facciamo come se nulla fosse. Che succede qui? Oh, ma guarda. Non volevo disturbarti. Adoro questo canale. ha sempre ottime idee. Ah, devo fare pipì. È da un po' che la trattengo. Ah, molto meglio. Oui, che bello. Mi piacciono gli spruzzi. Ops, mancato. Oh, ho centrato il soffitto. Più, più. Ah, ah, senza mani. Non dovevo bere così tanto. Aiuto la mamma ad ammaffiare le piante. Bevi un po'. Oh, proprio sul bersaglio. Grandissimo. Fatta. Tiriamo lo sciacquone. Ora dovrei lavarmi le mani. Eh, non importa. Alex, che fai? Lavati le mani. Pulite. Bravo. Oh, no. Ma che è successo? Dimmi che è solo acqua. Alex, è opera tua. Eh, sì. Dovevo andare al bagno. Oh, tutta colpa mia. Hmm, ma forse ho la soluzione. Oh, un po' di shopping non fa mai male. Ecco ciò che mi serve. Wow, che servizio efficiente. Wow. Cos'è questo? La tua toilette personale. Oh, certo. Che bello. Eccola. Oh, ti lascio un po' di privacy. Wow. Mamma, ho finito. Sei stato bravissimo. Oh, ma ciao. Mi sento così vivo. Sono quasi pronta per il party. Uuuuh. Da qua. Smettila di darmi fastidio. Posso venire anch'io? Sei matta? Uffa, sempre la solita. Oh, quanto mi piacciono. No, ferma. Ma non posso avere niente. Ho un'idea. Guarda cosa ho qui. E ora? Questa potrebbe essermi utile. Oh, bene così. Ancora qualche foto. Che succede? Oh, no. Devo essermi addormentata. Pazienza. Pensavo avrebbe funzionato. Ok. Che altro ho qui? Aspetta. Ah, ah. Oh, no. Quando me l'hai scattata? Sono una vera fotografa. Colgo sempre l'attimo. Aspetta. Oddio. Oddio. Ora va meglio. Che sollievo. Così è perfetta. Cos'era quel rumore? Ellie. Smettila o mi arrabbio. Dico sul serio. Devo andare. Sei proprio stramba. Ok, va bene. Prendi le scarpe. Sì. Sapevo che avrebbe funzionato. Non camminare così veloce. Resta qui e non mettermi in imbarazzo. Ciao. Posso avere da bere? Certo. Woohoo. Ehi. Che succede? Boom. Ah. Mickey. Salvami. Che hai fatto? Oddio. Oh, questa l'ha posto subito. Mi dispiace. È stato un incidente. Andiamo via. Subito. Chissà che sta facendo Mickey. Ho i capelli perfetti. Oh, le farò una sorpresa. Dammi il tesoro. Ho troppo da fare per giocare. Mi faccio un selfie veloce. Oh, anch'io. Togliti di mezzo. Ma non trovi mai pace. Oh, è quasi ora. Ehi, giochiamo a nascondino. Uno, due, tre. Devo nascondermi. Oh, quasi dimenticavo. Forse posso nascondermi qui. No. Nell'armadio non mi troverà mai. Ah, c'è qualcosa lì dentro. Diventiamo amici. Mickey ha cose orrende nel cassetto. Ho trovato sotto al letto. Ssss. Non parlare. Se ne è andata? Sì. Che succede? Ehi, sto cercando di dormire. Terremoto. Aspetta un attimo. Facciamo feste. È qui la festa? Uh. Adoro le feste. Che succede? Mi dispiace. Prendiamolo. Mancato. Prendi questo. Cos'è stato? Ti acchiappo. Ma tu non sei, Jake. Meno male. Attenzione, signore. Sono proprio io. Oddio. Justin. Ciao. Magari ci si vede in giro. Lo spero proprio. Non puoi scappare. Aia. Oh. Che imbarazzo. La mia testa. Mi verrà un bernoccolo. Se solo mi notasse. Lascia. Aspetta. Guarda, Mickey. È tutta sola. Cosa? Dai, Jake. Che succede? Finalmente è arrivato il nostro grande giorno. Che ti salta in mente? Puoi baciare la sposa? Fatti sotto. Mai e poi mai. Ellie. Smettila. Sai, non è stato così male. Vedrai quando lo dirò alla mamma. Wow. Mi hai reso così felice. Hai i tuoi stessi occhi. Ok. Se Ellie può farlo, posso farlo anch'io. Cosa può andare storto? Forza. Ehi. Parli con me? No. Non credo proprio. Ma cosa? Dove ho sbagliato? Wow. Staremo insieme per sempre. Che noia. Ho un'idea. Ecco, Mickey. Prendi questo. No. Ho da fare. Non sei divertente. Ma che? Ma fa niente. Ehi. Fa attenzione. Aspetta. No, non va. Ecco. Ora molto meglio. Wow. Non i miei trucchi. Ti ho avvertita. Sei in un mare di guai. Nessuno gioca con i miei trucchi. Al volo. Centro perfetto. Mi sa che devo darmela a gambe. Oh no. Non ci provare. Ti ho presa. Aspetta. Parliamone. Troppo tardi ormai. Sono su tutte le furie. Non mi prenderà mai. No. Avrei dovuto farlo tanto, tanto tempo fa. Vendetta. Fai il solletico. Smettila. Lo dirò alla mamma. Mi arrendo. Basta, solletico. Bene. Vieni qui. Oh. Mi rilassa passare l'aspirapolvere. Papà? Ciao principessa. Ti serve aiuto con i capelli? Nessun problema. È più complicato di quanto sembri. Ops. Non so come usarlo. Ma so usare un aspirapolvere. Metto il laccetto sull'aspiratore. E in questo modo faccio una coda perfetta. Grazie, papà. Ciao. Ordinaria amministrazione. Che noia. Vorrei dei giochi nuovi. Non so che fare. C'è bisogno di papà. Principessa. Tutto ok? No. Vuoi divertirti un po'? Con lo scotch. Guarda un po'. Attacco il nastro al pavimento. Un'altra striscia qui. Questo non serve più. Che ne pensi? Bello. Cos'è? Una pista per le corse? E vincerò io. Non credo. Io ho la macchina più veloce. Pronta? Non sarà facile. Ce la posso fare. E sono partiti. Forza. Forza. Non si bara. È un testa a testa. Attenzione. Il treno. Non posso guardare. Ce la faremo. Woo! 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 Bellissimo! Rifacciamolo. Mi piace un sacco questo gioco. Ecco la tua borsa, cara. Buon viaggio. E questo è per te. Nulla di complicato. Mi manchi già. Ciao. Woo! fosse così tanto da fare in casa. Ma almeno la cucina è pulita. Cosa abbiamo adesso? I compiti di Gina. È venuto proprio bene. Dovrei farlo come lavoro. Che ne pensi Gina? Wow, fantastico. Ecco a te. Spuntiamo un'altra cosa sulla lista. Grazie papà. Nessun problema cara. È ora di andare a letto. Ma non ho sonno. Che carina. Chiudi gli occhi piccola. Brava bimba. Non riesco a dormire papà. Magari ti racconto una storia. Sì, dai. Ok, sei pronta? Iniziamo. C'era una volta una principessina chiamata Gina che adorava gli avocado. Li mangiava ogni giorno. Wow. Un giorno un mostro diede la caccia agli avocado. Papà, ho paura. Oh, scusa cara. È solo una storia. Tranquilla. Ti va una ninna nanna? Oh, magari. Nina oh, questa bimba chi la do? Mi piace. E ora rockeggiamo un po'. Yeah. Vai così papà. Woo. Yeah. Senti che è solo. La migliore ninna nanna in assoluto. Sono una rock star. Rock and roll. Woo. Sì. Rock and roll. Cosa? No, torna a letto. Ma papà. Scusa, mi sono lasciato trasportare. Devi dormire. Non credo abbia funzionato. Tua mamma saprebbe cosa fare. Un momento. Ho trovato. Oh, la mia bella addormentata. La mamma è qui. Sono un genio. Oh, che partita. Tira e segna. Wow, che puzza. Mi serve una rinfrescata. Proprio ciò di cui ho bisogno. Un bagno con le bolle. Acqua calda. Check. Ora mi servono le bolle. inseriamo il codice segreto. Corretto. Fruttato. Vuoto. Proviamo questo. Niente. Ok, forse quest'altro. Ci deve essere qualcosa qui. Sento un rumore di bolle. voglio solo rilassarmi con la mia paverella. Che posso fare? Stupide bottiglie. Che fregatura. Oh, il mio tesorino puzzolente. È finito il bagnoschiuma? Ecco a te. Oh, per favore. Aspetta, ho un'idea. Prendi dei sali da bagno. Aggiungi del colorante e mescola. Metti la polvere nel pop-it. Compattala, riempiendo ogni fila. Quando è finito, giralo e rimuovi la polvere. Bomba da bagno fatta in casa. Non preoccuparti. La mamma ha salvato il tuo bagnetto. Mamma, sei la migliore. Buon bagnetto, tesoro. È fantastico. Così colorato. Provalo. Wow, guarda che bello. È fantastico. Non vedo l'ora di immergermi. a bomba. Divertiti e pulisciti dietro le orecchie. Adoro le bolle. E il mio pop-it. Ah, fa silenzio. Non voglio alzarmi. Un paio di minuti, dai. E vabbè, mi alzerò. Sono ancora così stanco. Oh, cosa ho in testa? Perché i miei capelli sono così lunghi? Queste ciocche non sono mie. Aspetta, ho per caso… Beh, anche queste di certo non sono mie. Come ho dormito bene questa notte. È meglio che inizi la giornata. Buongiorno, piccoletto. I capelli sono a posto? Aspetta un attimo. Questa non è la mia faccia. è sicuramente un brutto sogno. Com'è possibile che stia succedendo? Ridammi il mio corpo. Oh, cavolo. Amica, svegliati. Forse perdere i sensi è la cosa migliore. Cos'è tutta questa roba che mi fa prudere il mento? Uso sempre questa roba sulle gambe. Molto meglio la pelle liscia. Il mio rasoio normale andrà bene per questo. Non userò mai quello di David. E il rasoio rosa, sì, eh? Non mi sono mai rasata la faccia prima d'ora. Aio! Fa male! Sto già sanguinando. Meno male che ho dei cerotti. Cavolo! Anche qui ci vorrebbe una bella rasatura. E so benissimo come fare. Così saranno molto più belle. Non so come faccia David a portare tutti questi peli. Oh? Che stai facendo le mie gambe? Metti giù il rasoio, ti prego! Ah, va bene. Come si scrive fotosintesi? Vediamo. Ah, stupidi capelli. Aspetta. Ecco a che servono i capelli lunghi. I capelli si sono impigliati. Non posso roccheggiare così. Che strano sapore. Ah, ho tutte le patatine nei capelli. Che schifo. Devo togliermeli di torno. Hm. Potrebbe funzionare. È come allacciarsi le scarpe. Ecco. Eh, non è durato molto. Ecco fatto. Queste ciocche hanno i minuti contati. Ciap ciap. A chi servono i capelli lunghi? Qualcuno vuole una frangetta? Adesso va molto meglio. Chi poteva immaginare che fossi così bravo? Sei uno schianto, amico. Oddio, non l'hai fatto davvero. I miei capelli. Sai quanto ci vuole per farli crescere. Sono rovinata. Tutti fanno pipì, giusto? Ma non sempre allo stesso modo. Mi sa che sei dal verso sbagliato. Beh, esperienza nuova. Ma io voglio sedermi. Una delle cose migliori delle feste è passare del tempo con i tuoi amici. Lily, quella manicure è bellissima. Io dico di alzare il livello di questa festa. Iniziamo. Vuoi ballare? Ti faccio vedere cosa vuol dire. Sì, ecco Ellie, ehm, David, con le sue tipiche mosse. Wow, guarda come si muove. Vai, David, vai. I suoi fianchi sono completamente autonomi. I suoi fianchi sono completamente autonomi. Ma cosa sta facendo? Non credevo che il mio sedere fosse capace di questo. Non c'è niente di meglio che uscire insieme. Oh mio Dio. Non ci credo. E adesso che si fa? Jake vuole andare a cena. Sai cosa succede a cena? Vorrà baciarmi. Proprio così. Devi andare per me, per favore. Ma io... Va bene, ci vado. Sei il migliore amico di sempre. Cavolo. Oh no, scordatelo, niente trucco. Ma che roba vorrà mettermi in faccia? Cavolo, ma come faccio a usare questa roba? Non mi sono mai truccato in vita mia. Questo però non sembra così complicato. Basta usarlo come lozione, giusto? Non è così male. Adesso un po' sugli occhi. Un po' di colore qui e lì. Oh, Ellie non ne mette abbastanza secondo me. Non sto cercando di spaventare il mio ragazzo. Penserà che sono un pagliaccio. Ora fa così. Molto meglio, vero? Sta fermo ancora un secondo. Stai benissimo. Cosa facciamo con i vestiti? No, il rosso non ti sta benissimo. Allora? No, è terribile. Questo va bene. Ma perché ti tieni la gonna? Meglio così? Ora non fare nulla che io non farei. Wow, sei bellissima. Aspetta un secondo. Ora sono pronta per mangiare. Un'insalata? Mi prendi in giro? Signorina, vorrai un panino. Un panino? Un panino. Voglio assolutamente un panino. E uno stuzzicadenti? Sono così felice di pranzare finalmente insieme. Le tue mani sembrano così... Che stai facendo? Finalmente. Diamo inizio alla festa. Ho così fame che mangerei una mucca intera. E ora un bel po' di senape piccante. Mmm, niente male. Ops. Anche tu hai fame? Ma che problemi ha? E che sta guardando quello? Che sono? Un pezzo di carne. Ah, forza! Questo robot non vuole morire. Devo vincere. Ce la posso fare. Ci sono quasi... Scusa, devo spolverare. Ma proprio adesso! Non puoi farlo dopo. Ecco, ho perso l'ultimo colpo. Quattro ore di gioco tutte per niente. Ellie, stai bene? Era solo un gioco. Ellie, no! È fantastico! Stiamo andando così veloce! Tadà! Guardate cosa posso fare. Piante per tutti. Perché le piante sono belle e ti amano. Ehi, come va? Puoi vedere qualcosa? Va bene. Fuoco! Oh, adoro il vento. È così bello. Lascia perdere. Ammira la mia acqua. Qui troverai anche le balene. Non scherzo. Eccoci. Piacere di conoscerti. Non voglio andare al Polo Nord. Carbone, come farai senza di te? Fa troppo freddo. Non è che c'è del gelato, eh? Cos'è stato? Oh, il sole è sorto. Ora tocca a me. Venite. Forza. È l'ora della fotosintesi. Grazie per l'aiuto. No, non se ne parla. È troppo rumorosa. Ecco. Molto meglio. Buongiorno, mio amico piumato. Ti sei svegliato col sole, vedo. Canti divinamente. È un piacere ascoltarti. Bene. È ora di alzarsi. Chissà che mi riserva la giornata. Ma che cavolo? Ho detto che sto dormendo. Come si fa a dormire da queste parti? Va bene, va bene. Mi sto alzando. Sono in piedi. Carta igienica? No, grazie. Ho qualcosa di meglio. Mi sono dovuto alzare. Quanto tempo sto perdendo. Che sollievo. Cosa? Niente carta igienica. Il rotolo è finito. No problem. Vediamo. L'igiene dentale è importante. Un po' di terra aiuterà i miei denti a rimanere sani. Penso sia meglio che mi lavi la faccia. Oh, sì. Proprio quello che mi serviva. Calda come piace a me. Per colazione vorrei proprio un bel succo di frutta. Quest'arancia andrà bene. Guarda quanto succo fresco ho spremuto. fatto un bicchiere intero. Perfetto. Mi serve un caffè per iniziare la giornata. Oh, piccanti. Ne vado pazzo. Oh, sì. Ottimi cereali. Una colazione piccante. Come i veri campioni. Buonissimi. Ora un po' di caffeina. Bollente. Come piace a me. Oh, sto distruggendo tutti. Ehi. Devo usare il bagno. Esco tra un minuto. O quando supero il livello. Ok, pensa a cose secche. Come i deserti. Hai finito. Puoi fare in fretta. Basta. Sapevo che stavi solo giocando al telefono. Cosa fai qui? Non guardare. Via di qui. Muoviti su. Che maledocata. Devo fargliela pagare. Sì, con questo. Me la pagherà cara. Metterò della pellicola di plastica sulla tazza del water. Rimpiangerà di aver usato i suoi poteri per venirmi a spiare. Fatto. Ora renderò indimenticabile questo scherzo. Questo slime disgustoso è veramente perfetto. Andrà fuori di testa. Devo solo aspettare che lo slime si depositi un po'. Si sta depositando bene. Sono un genio. È così realistico che fa schifo anche a me che so che è uno scherzo. Ok, è ora di iniziare le danze. Ma quanto ci hai messo? Sto per scoppiare. Oh, non vedo l'ora di sentirla urlare. Oh, mio Dio! Che schifo! Sto per vomitare! Com'è possibile? Devo uscire di qui? Hai distrutto il bagno! Ehi, cosa stai guardando? È così carino, meraviglioso! No, grazie. Dov'è la ciotola che mi serve? Ah, che spavento! La passione è fuori controllo! È così bello! Saremmo una coppia stupenda se mi notassi! Se è così carino, ti riempirei di baci! Ma che diamine ci sono io qui! Non vedo l'ora di baciarlo! È fuori controllo, il che significa che è il momento di darle una lezione. I scherzi in bagno sono i migliori. Ho solo bisogno di un rossetto! Disegnerò delle labbra sulla mia mano. In questo modo, devo assicurarmi che il rossetto sia ben steso. E adesso, baci in quantità! Baci alla tavoletta del water! Sembra così reale! Un altro dovrebbe bastare! Ehi, vieni un po' qui! Voglio baciare ogni centimetro della sua faccia! Ehi, come mi spieghi tutto questo? Cosa sono quelli? Chi ha baciato la tavoletta del water? Beh, da questa foto sembra sia stata tu! No, no, no! Non io! Guarda come stai bene in questa foto! Ha risposto col vomito! Te la farò pagare! Ok, come sto? Capelli, vestito, molto bene! Sono pronte! Prendiamo la borsa! Le avviso che arrivo! Ottimo! Ci divertiremo un sacco! Piano! Devo essere furtivo! Bottiglia in posizione! Mi servono le mentos! Dentro! Un passo indietro! Sta per eruttare! Oddio! Che succede? Il mio vestito è rovinato! Ehi! Ho pensato che ti servisse un drink! Ci vediamo! Sono zuppa! Non posso uscire in questo stato! Ottima nuotata! Mi faccio subito una doccia! Oh, ciao! Ehi! Mi lavo subito i capelli! Un po' di shampoo! La la la! Benvenuta un'idea! Non ha insaponato qui! Aiutiamola! Quanto sapone! Bene! Devo sciacquare di nuovo! Si sta ancora lavando i capelli! Perché lo shampoo non va via? Cosa? Perché? Un altro pochino! Avrà capelli pulitissimi! Ancora! Ma che problema ha questo shampoo? E che succede se chiudo l'acqua? Ciao ciao! Cos'è successo all'acqua? Non vedo niente! Aiuto! Mi serve acqua! Ecco fatto! L'acqua che ti serviva! Non c'è di che! Vieni qui! Meglio scappare! Wow! Ben ti sta! È stato divertente, no? Sì, decisamente! Devo abbronzarmi un po'! Mettiamo la crema solare! Sembra tranquillo! Ok! Spalmiamola bene! Ah! Proprio dove volevo che fosse! Mi serve proprio un po' di relax! Mmm! Sarebbe un peccato rovinarglielo! Intanto prendo questa! Aspetta! Ho sentito qualcosa! Forse l'ho immaginato! Ah! Molto bene! Ora un ingrediente extra! Vermetti vivi! Oh! Che schifo! Perfetti! Dentro! Questo non mi serve più! Mischiamo il contenuto! Ora è pronto! Ottimo! Si è addormentata! Rimettiamo la crema a posto! Non c'è niente da vedere! Solo una pianta che cammina! Ouch! Chi l'ha messa qui? Che dolore! Mmm! Sento che mi sto scottando! Mettiamo altra crema! C'è qualcosa qui dentro! Cos'è? Sono... Sono... Sono vermi! Ah! Fregata! Sorpresa! Stai bene? Era solo uno scherzo! Svegliati! Svegliati! Che posso fare? Non voglio andare in prigione! Oh! Guarda! Un altro verme! Pensavo fossi... Lascia stare! Spaventato da un piccolo verme? Chi? Io? Non credo proprio! Come invitante questo sandwich! Mi siedo qui a mangiarlo! È l'ora della vendetta! Devo solo intrufolarmi qui sotto! E legare insieme i due lacci! Quasi fatto! Perfetto! Non se ne è accorto! E ora... Il gran finale! Questo lo prendo io! Vieni a prenderlo! Dammelo! Te la farò pagare! Pensavo volessi un po' d'acqua con il panino! Ciao ciao! Aspetta e vedrai! Eccola di nuovo! Questo libro è noioso! Oh! La bella addormentata! Ora non muoverti! Un po' di nastro adesivo! Non svegliarti! Devo fare in fretta! Fatto! Forse è troppo! Oh guarda! Un secchio d'acqua fredda! Sveglia! 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 È ora di alzarsi! Ma che succede? Guarda cosa ho! Non lo faresti! Non provarci! Scommettiamo? Ecco che arriva la neve! Un altro po'? Stai proprio bene! Ti faccio una foto! Sorridi! E la postiamo subito! Guarda! Hai davvero un bel look! Ma... Sì! Sta dormendo! Ora posso vendicarmi! E so come fare! Oh! Dormi ancora? Aspetta! Sì! Perfetto! Questo rametto è perfetto! Solletico! Solletico! Niente! Wow! È proprio un dormiglione! Proviamo qualcos'altro! Troppo pesante! Dovrebbe metterci a dieta! Forza! Oh! Dovrei tornare in palestra! Ce la posso fare! No! Non posso! Ma quanto pesi? Ehi! Tutto a posto? Serve una mano? Fantastico! Sentite un po'? Capito? Capito! Uno, due, tre! Ma che diavolo! Grazie mille ragazze! Che giornata di shopping! Oh! Sta arrivando! Indossiamola in fretta! Che faccia che hai fatto! Sono io! Ti odio! Ti odio! Una tranquilla giornata in piscina! Quello che volevo! Ehi! Ciao! Oh mio Dio! Ah! Aiuto! Ha funzionato di nuovo! Non ci credo! Smettila! Non fa ridere! Qui sono al sicuro! Non può raggiungermi! Non puoi sfuggirmi! Basta così! Me ne torno a casa! Che giornata! Non ci credo che l'ho spaventata così tante volte! Mi sono divertito! Ehi! Indovina! Mi sono nascosto e... Dovevi vederla! Oh! Guarda un po' cosa c'è! E poi sono riemerso dall'acqua! Che spasso! Un altro giorno di sole! Ups! Puzza! Meglio cambiare la camicia! Non farmi male! Ah! E' la maschera! Ecco perché non la trovavo! Buh! Mamma! Aiutami! Lasciami stare! Ti prego! Ora non è così divertente, vero? Amo questa maschera! Io la odio! Oh! Mi serve una doccia! Wow! Solo wow! E guarda questa! Ss! 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 Posso unirmi a voi? Ma parla con noi! Andiamocene! Entriamo qui! Presto! Che modi! Ss! Ss! Cercavo solo di essere amichevole! Che stanno facendo lì dentro? Ormai sono lì da un po'! Forse riesco a sentire qualcosa! Adoro questa parte! Teniti forte! Si sono... Hanno tirato lo sciacquone? Mandy? Mickey? Dove sono andate? Questo cos'è? Non l'ho mai visto prima! Forse premendolo... Non sei abbastanza carina! Non è giusto! Devo resistere! Wow! Ho un'idea! È il momento di un cambio di stile! Tolgo gli occhiali e farò la pulizia a viso! Wow! Queste salviette sono super! Ora infoltiamo le sopracciglie! Sembreranno più piene e naturali! Molto meglio! Ora un po' di ombretto! Meglio scegliere un colore tenue! Le ciglia finte definiranno meglio il mio sguardo! Sistemiamo il trucco! Applichiamo del correttore sulle guance e sul naso! Questa spugnetta ci aiuterà! Un ultimo ritocco con il fard! Ora passiamo alle labbra! Anche qui un look leggero e naturale! Questi orecchini mi daranno un tocco glamour! Mi sciolgo i capelli! Fantastica! Anche se me lo dico da sola! Proviamo di nuovo! Speriamo che ora funzioni! Wow! Entra! Lo immaginavo! Spero di non rovinarmi i capelli! Che bella festa! Jennifer! Wow! Scattiamoci una foto! Ciao Jen! Ciao Huggy Wuggy! Questo è il signor unicorno! Che spazzatura! Non c'è nient'altro in onda! Ehi tu! Sì, tu! I tuoi capelli sono tristi e pietosi! Proprio come questi? Che schifo! Che imbarazzo! Sì, sì è così! Vuoi una nuova pettinatura elegante? Ti serve questo mini styler per capelli! Così chic, così elegante, così moderno! Wow! È come una bacchetta magica! Ma per i capelli! Funziona su tutti i tipi di capelli! Per realizzare grandi acconciature! Prova tu stessa! Oh! Ok! Guarda qui! Che c'è mamma? È incredibile! Di addio alle brutte acconciature! Ah! È magnifico! Ed è così facile da usare! Oh! Dove sei stato finora? È il tuo parrucchiere personale! Prendilo mamma! Ma c'è dell'altro! Aggiungi un po' di brillantini ai capelli! Guarda che differenza! Chiama ora! Non perdere l'occasione! Wow! Mi sento una modella! Che sta succedendo? Vieni pure! Non muoverti! Ho un uovo e un punteruolo! Faccio un buco alle due estremità! Bene! È ora di soffiare! L'ho fatto uscire fuori! È l'ora dello scherzo! Zoe? Ehi! Guarda che soffare! Tieni! Vuoi provare? Ah! Che cosa? Che schifo! Dovresti vedere la tua faccia! Adoro patatine e ketchup! Lo spuntino perfetto! Fatto! Puliamo i piatti! Bene! Pronta a strofinare! Con questo ho finito! Non male! Ecco il mio! Visto che ci sei ne approfitto! Ehi! Non esagerare! Non importa! Ah! Che diamine! Li sto lavando praticamente tutti! Oh! Forse mi è venuta un'idea! Userò il barattolo degli insetti! Sarà divertente! Sai che ti dico? Fuori tutti! Insetti ovunque! E ora me ne vado! Scusa non posso lavare i piatti! Devo andare! Meglio trovare un nascondiglio e guardare! Cavolo! Non voglio fare tutti questi piatti! Mettiamoci all'opera! Un insetto! C'è un insetto! Insetti! Insetti ovunque! Che dovrei fare? Ehi! Un attimo! È finto! Ehi! Ti vedo laggiù! Davvero divertente! Scusa! Devo andare! No! Non dargli l'ananas! È quello che vuole! Ehi! Jake! Svegliati! Qualcuno ha detto il mio nome? Mi aiuti a pulire? Ascolta! Devi solo innaffiare quella pianta! Quella specie di albero laggiù? Eh! Non mi va di farlo! Ehi! Ma questo è un palloncino! Mi è venuta un'idea fantastica! Mettiamolo sul beccuccio e versiamo! È bello pieno! Mettiamo in atto lo scherzo! Ehi Ellie! Sto innaffiando la pianta? Ottimo lavoro! Ehi! Un attimo! Ah! La sto innaffiando per bene! Che schifo! Sei disgustoso! Guarda! Era solo un palloncino! Bene! Se hai tempo per scherzare, hai tempo per pulire! Beh! Ne è valsa la pena! Ho due coni con la panna per voi! Wow! L'hai mangiato così in fretta! Oh! Posso avere un po' del tuo? No! Hai già mangiato il tuo! Questo è mio! Non credo che mi troverà qui! Mi godrò il cono! Vediamo se mi ha scritto qualcuno! Ecco il suo cono! È distratta! È la mia occasione! Ehi! Il mio cono! Lo hai mangiato tutto! Zoi! Te ne pentirai! Mangia il mio cono e me lo mette in faccia! Ah! Schiuma da barba! Ho un'idea! Imparerà alla lezione! Ecco fatto! Sembra proprio panna montata! Ci cascherà di sicuro! Target avvistato! È il momento! Ok! Devo solo fingere una chiamata! Oh! Ha un altro cono! Sarà mio! Funziona! Ci sta cascando! Sì! L'ha fatto! Ha dato un morso! Che sapore strano! È quello che meriti! Ti piace la schiuma da barba? Che schifo! Ma che cattiva! No! Smettila! Te lo sei meritato! Tieni! Oh! Un Kit Kat! Sì! È tutto passato! A questa cioccolata calda manca solo la panna! Un ciuffetto perfetto! Oh! Wow! Sembra così buona! Mmm! Anche qualche marshmallow! Ehi! Non provare a berla! Ok? Se n'è andata! È la mia occasione! Che buon profumo! Deliziosa! Ah! Non è possibile! L'hai bevuta tutta! Sei incommentabile! Ora devo farne un'altra! O forse... È il momento di vendicarmi! Piena fino all'orlo! Ora la copro con il piatto! Devo solo girarla con attenzione! Non vedo l'ora di vedere la sua faccia! Sarà la panna farla cadere nel tranello? Non dimentichiamo il marshmallow? È così bella! Peccato che non sia reale! Ecco gli zuccherini! Non riuscirà a resistere! La vendetta è servita! Ehi! Ne ho fatta una per te! Wow! Grazie! Si comincia! Sì! Sta funzionando! C'è cascata! Sono zuppa di latte! Ma che diavolo! È il momento di scappare! Che notataccia! Sono uno zombie! Ecco fatto! Molto meglio! Mi serve il tocco finale! Zoe! Sprigati! Il mio trucco! È tutto rovinato! Ehi! Perché bussi così? Devi aspettare! Uff! Come posso rimediare? Ok! Ha funzionato! Riproviamo! Eh? Da dove viene questo? Oh! Sarà uno scherzo stellare! Uno! Prendere il doccino! Due! Versarci i brillantini! Tre! Ritorno alla normalità! Il bagno è tutto tuo ora! Non vedo l'ora di rilassarmi! Mi serve proprio una doccia! Non c'è niente di meglio per rimettersi in sesto! Sento la doccia! Ora devo solo aspettare le urla! Cosa? Ah! Sono verde! Sono tutta verde! Il bosco è fantastico! Ma sono contento di avere il telefono! Non mi sento bene! Devo andare in bagno ora! Oh no! Le api! Devo andare da un'altra parte! No! 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 Forse qui! Oh! Quel sentiero sembra spaventoso! No! Mi serve un altro posto! Oh mio Dio! Che sta facendo? Ha un secchio! Una tavoletta del water! E un sacco della spazzatura! Non capisco cosa stia facendo! È una toalette! Mia! Togliti! È un'emergenza! Oh! Grazie al cielo! Che sollievo! Sono sopravvissuto per miracolo al mio calvario! Grazie al cielo sono riuscito a toccare terra! Pensavo di non riuscire a trascinare il mio corpo sulla spiaggia! Ma ce l'ho fatta! Anche se sfinito! Non ero sicuro di dove fossi però! Una spiaggia, certo! Ma dove? E lì, all'orizzonte, una nave da crociera! Ho gridato e chiesto aiuto! Ma è stato inutile! Ero intrappolato su questa spiaggia piena di sassi! Da solo! Come se non bastasse, morivo di fame! Cosa potevo mangiare? Era come se il cielo mi avesse sentito! Una valigia si è arenata sulla riva! Forse la mia fortuna stava cambiando! Era una di quelle impermeabili! Davvero un bel bagaglio! Ero sicuro che la valigia sarebbe stata la mia salvezza! Ma mi sbagliavo! Dentro c'erano solo bichini! C'era anche dell'olio! E per qualche strano motivo un cucchiaio! Chiunque fosse il proprietario, l'aveva riempita di oggetti strani! Ma questa stranezza era la mia salvezza! Ho messo dell'olio nel cucchiaio! Poi ho aggiunto lo zucchero nell'olio! Uno stecchino come impugnature! E ho iniziato a riscaldare! Non ho mai sentito un odore così incredibile! La fame rende anche il più semplice spuntino cibo gourmet! Ed eccomi qui! Che storia ridicola! Che esagerazione! È vero! Tutto quanto! Lo giuro! Come volete! Ridete pure! Forza! Spostati! Potrei anche bere già che ci sono! Odio l'ora di punta! Ho fatto un errore enorme! Arriverò tardissimo! Non ci voleva proprio! Beh, almeno non ho più sete! Oh no! Non va bene! Devo andare in bagno! Cosa posso fare? Aspetta! Ho un'idea! Taglio la parte superiore! Poi uso un po' di nastro adesivo in neoprene! Stacco la carta! E ora il tappo della bottiglia! Metto il nastro proprio intorno al bordo esterno! Poi faccio un buco nel tappo! Meno male che porto sempre con me questa roba in macchina! Ora faccio un piccolo buco nelle mie mutande! Proprio così! Non troppo grande! Il beccuccio entrerà perfettamente nel foro! Dopodiché un tubicino andrà nel foro che ho fatto! Perfetto! Ho finito! Bene! Mettiamo il tubo fuori dal finestrino! Oh cavolo! Sì! Che enorme sollievo! Ha funzionato alla grande! Ah! Che nottata riposante! Il campeggio è rilassante! Oh! Ho un alito pessimo! Meglio uscire dalla tenda! Ok! Cerchiamo i miei articoli da bagno! Che schifo! Ma che diavolo! Oh no! Il dentifricio è rovinato! Com'è successo? Adoro stare in mezzo alla natura! Oh! Oh! Ah già! Sono caduto! Questo spiega tutto! Beh, non c'è modo di ripararlo! È un gran pastigio! Ehi! Magari questo ti può servire! Oh! Ti vedo confuso! Lasciami spiegare! Ho preso un pop it e del dentifricio! E ne ho aggiunto un po' in ogni bolla! L'ho riempito completamente! Poi ho preso del bicarbonato di sodio! L'ho spruzzato sul dentifricio! Anche il bicarbonato mantiene i denti puliti! Forza! Prendine uno! Ok! Vediamo! Oh! È alla mente! È ora di spazzolare! Fantastico! Funziona davvero! Ehi! Grazie mille! Davvero utile! Nessun problema! L'igiene dentale è importante! Questo livello è difficile! Non riesco a superarlo! Non devo dimenticare la coca! Prepariamo tutto! Ma che diamine è ancora tutto qui fuori! Ehi, David! Prepara lo zaino! Al lavoro! Ok, va bene! Dov'è il mio zaino? Sono così vicino a finire questo livello? Devo solo infilare questa roba dentro! Questo e questo e anche questo! Non devo dimenticare questa coperta! Non superato! Finiamo il bagaglio, va! Ehi! Hai finito di impacchettare? Andiamo! Molto bene! Sono pronto! Questo sembra un buon posto! Sì! Apparecchiamo! I picnic sono sempre divertenti! Bene! Ecco i piatti! Le bibite! e i cucchiai! E i cucchiai! Non li ho dimenticati! David! E il coltello? Oh, il coltello! So di averlo preso! Non è qui dentro! Non ne combini mai una giusta! Aspetta un secondo! Ho un'idea! Una carta di credito? Che ci devi fare con quella? Guarda e stupisciti! Vedi? Proprio come un coltello! Taglia la crosta! Ecco fatto! L'anguria è tagliata! Wow! Davvero impressionante, David! Mmm! È davvero deliziosa! Un ottimo modo di passare un pomeriggio! Ma quanto piove lì fuori! Sono fradicia! E sporca di fango! Perfetto! Sono un disastro! Che tempo incredibile! Sono fradicio! Ehi! Come mai le tue scarpe sono asciutte? Oh sì! Sono piuttosto asciutte! Ti spiego cosa ho fatto! Ho preso le mie scarpe e una candela! Poi mi sono messo a strofinare! Trasferendo un sottile strato di cera sulle scarpe! Coprendo tutte le superfici! Poi ho usato il phon! Il calore ha fuso la cera nel tessuto! Questa parte è stata divertente! Et voilà! Scarpe impermeabili! Non ci credo che quello scoiattolo ti ha rubato il panino! Ehi! Vedi quella pozzanghera? Provaci! No! Non lo so! È piuttosto fangosa! Ok! Bene! Vado! Ehi! Wow! Ha funzionato! Proprio come hai detto! Fantastico! Mai più scarpe da ginnastica bagnate! A volte un giorno normale può diventare memorabile! Ho visto bene? Chissà chi è caduta! Le mie chiavi! Le ho fatte cadere! Wow! Che rumore strano! Gli si sono strappati i pantaloni! Ah! Devo andarmene da qui! Che imbarazzo! Questo strappo è enorme! Sarebbero rovinati! Se non avessi una soluzione! Iniziamo a cucire da questo punto! E uno... Oh! Non può essere! Odio gli aghi! Devo mettere un cerotto! Ma è difficile metterne uno qui! Come devo piegarlo? Manterrà? Oh cavolo! Tanto sforzo per nulla! Proverò qualcos'altro! Per i punti scomodi usa un normale cerotto! Ma taglia le bande laterali! Poi incrociala in diagonale! E si attaccheranno! Impressionante! Dov'ero rimasto? Chi vuole rispondere al numero 2? Non io! Non io! Tu? Io? Oh! Proverò a rispondere! Ehi! David ha la cerniera abbassata! Veniamo al sodo, David! Che c'è da ridere? Beh, fa ridere, devo dire! Anche il prof si è messo a ridere! Eh? Perché state tutti ridendo? La cerniera! Ho dimenticato di chiuderla! Oh cavolo! Non ci credo che sta succedendo a me! Ok! Molto meglio! Hmm! Questo mi sarà utile! Niente più cerniera abbassata! Togli l'anello dal portachiavi! Attaccalo alla cerniera! Gira finché non è entrato del tutto! Ora tiralo su e aggancialo al bottone dei jeans! Preparatevi! Sto rientrando! La lezione è conclusa, finalmente! Ci vediamo dopo! Oh! David! Ops! Tutto a posto! Ah! Stai bene! Deve far male! Mi dispiace! Eh! Brucia un bel po'! Ho qualcosa che ti può aiutare! Fidati! Ma sei proprio sicura? Sì! Ha un uso nascosto che non tutti immaginano! Bisogna aprirlo finché non si srotola e si appiattisce! Poi lo mettiamo sulla ferita! E usiamo una stringa per tenerlo fermo! Wow! Ti devo un favore, Chloe! Mi sono salvato per un pelo! Oh! Oh, Ellie! Guarda cosa ho comprato! Wow! Che belle, Matt! Spero mi stiano! Ti piacciono? Hanno un bel aspetto! Facciamo un giro di prova? Dai! Andiamo! Accidenti! Certo che fanno male! Matt? Stai bene? Fanno davvero male! Non sembra a posto, vero? Oh! Stai sanguinando! Vorrei poterti aiutare! Dannate scarpe nuove! Aspetta! Ho un'idea! Mi serve solo una cosa qui! Tadà! Ecco a te! Eh... Eh... Cosa? Dai! È per il tuo piede! Tanto vale provare! Metti la coppa nella scarpa così da proteggere il tallone! Ah! È strano! Ma funziona! Non fa più male! Beh... Grazie! Prego! Andiamo! I primi appuntamenti sono imbarazzanti! Specie se l'altro è in ritardo! È già passata mezz'ora! Ehi! Ciao David! Sei bellissima! Questo ristorante è molto carino! Sapevo ti sarebbe piaciuto! Ahi! Ho una scheggia nel dito! E mi fa molto male! Oh no! Riesci a toglierla? Non saprei! Mi dispiace David! Ma posso aiutarti? Le pinzette ci torneranno utili! Proviamo? Prima però... Sterilizziamole! Le userai su di me! Pronto? Avvicinati! Fa presto! Ecco! Già fatto? Grazie! Le porto sempre con me! Ok! Dove eravamo? Esistono così tanti elementi? Sodio? Devo rinfrescarmi! È quello che penso? È il mio momento! Eh? Chi farebbe una cosa simile? Dovrebbe essere divertente? Dovrebbe essere divertente? Tu e i tuoi stupidi laser! In realtà potrai divertirmi anch'io! Devo proprio fare pipì? La sta facendo sul serio! Non sapevo potesse fare così! Hai visto una ragazza fare pipì? Eh... Non così! Rilassati! È solo la bottiglia, vedi? Oh! Molto più chiaro ora! Questa è la mia canzone! Non è così piccoletta? Non è così piccoletta? Brian... Per quanto ne hai ancora? Zoe, non credo ti possa sentire... Ma quant'è alta quella musica? E dai! Sul serio! Credo che l'ora del bagnetto sia finito! Ehi, sono un uomo nuovo adesso Sì, uno irrispettoso Ma io so cosa fare Brian adora farsi il bagno, eh? Che penserà di questo trattamento di bellezza? Non vedo l'ora di vederlo in azione Ehi, il bagno è tutto tuo Sì, vabbè Non posso perdermelo Si ritorna tra le bolle e la schiuma Ma com'è densa questa roba? Un po' troppo densa Ma cos'è? Sì Zoe, ti ammazzo Quel bagnetto è andato male Oh, ecco C'è Zoe E anche le sue scarpe sporche Ehi Mi sto solo mettendo al mio posto Ma ci vorrebbe qualcosa da mangiare Torno subito Bene Grazie di niente Ce ne deve essere ancora qualcuna Le finisco sempre troppo in fretta A lui importa solo di se stesso So io cosa renderà questi piedi felici Un nuovo pacchetto Ma cosa? Vuoi giocare, eh, Zoe? Bene Non mi lasci altra scelta Queste gambe faranno una brutta fine Ma che... Le tue gambe si sono staccate? Ma che schifo Troppo forte, vero? Non la passerai, liscia Accidenti, ma è posseduta Che stupido, Brian E' stato troppo facile Cos'è quello? Oddio Che mi hai fatto? Mi sento male Bene Ho spalmato il cioccolato nell'arancia Mickey Vieni qui Ho una cosa per te Oh, davvero? Ok, ok Allunga il dito così E ora chiudi gli occhi Bene Iniziamo Ora puoi aprire gli occhi Ah, Grace Ma che mi hai fatto? Ah, questo film è spaventoso Oh, scusa Mickey Mi sono spaventata Che diamine, Grace Lo smalto è praticamente ovunque Ecco Devo fare qualcosa Aspetta Ho un'idea Oh, sì E' l'ora di uno scherzo Distruggi quel mostro Bene Mi sembra distrutta Ecco la bibita gassata Che scherzo che sarà Verso questa gelatina non aromatizzata Rimetto il tappo E agito un po' Mescoliamo bene Ok, dovrebbe bastare Fase successiva Versare il contenuto in queste cannucce Sarà fantastico Ok, cannucce piene Le metto in frigo Così si induriscono in fretta Ora la parte difficile Aspettare Ok, dovremmo esserci Diamo un'occhiata Oh, sì Sono pronti Ora li tolgo dalla cannuccia Perfetto Oh, sembrano enormi vermi viscidi E finiranno nelle patatine Che paura Non riesco a guardare Ecco Ho scambiato le ciotole E non se ne è accorta Aspetta Che cos'è? Cosa ho mangiato? Hihihi Oh, stai mangiando vermi, eh? Posso assaggiarne uno? Mi piacciono belli gommosi Buoni Davvero saporiti Grace Non ti piace uno spuntino di vermi? Oddio Mickey Sei davvero disgustosa Sto per rimettere Che ne dici di questo vestito? Eh, non lo so No, questo non è il mio colore Oh, mio Dio Wow Nah, non mi pare il massimo Ah, quel cappotto è fantastico Adoro il tessuto Sì, è quello che cerco Ehi Mickey Lascialo, è mio Non credo proprio L'ho visto prima io Sì, ho vinto Che caratteraccio Si abbina ai miei occhiali da sole A tutto il resto Si crede la migliore Non importa Oh, ehi Cosa abbiamo qui? Ss Ti prendo in prestito per uno scherzo L'outfit è stato scambiato Sistemiamo il cappello E aspettiamo Sto benissimo così È la mia occasione Solo un colpettino? Co Cosa diavolo è stato? Qualcuno mi ha dato un colpetto sulla spalla Questo cappotto è perfetto Stavolta ho proprio sentito qualcosa Non c'è nessuno qui Solo io L'avrò immaginato Sta andando alla grande Continuiamo Cosa? Oh no, no, no Ah Il manichino è vivo Aiuto Tieni il cappotto Io me ne vado Lo scherzo è stato un successo Questo libro mi tiene incollata Oddio Ora Grace Va via per favore Forza Mi serve questo spazio Via No C'ero prima io Va via tu Mickey Non fare la mocciosa So cosa fare Finalmente Ritocchiamo il trucco Prima che arrivi Wuhuu Sta per prendersi uno spavento Perfetto Le labbra sono pronte Pianta Devo prendere il tuo posto Niente male Mickey Come sono felice di vederti Grazie mille Li adoro Non sai che giornata pazzesca ho avuto Ma che? Ho sentito uno stranuto Magari potremmo baciarci Certo Mi piacerebbe un sacco Ah Mickey Salvami Ma che? Grace Sei davvero pessima Devo andare via da qui Hai fatto scappare il mio ragazzo Vergognati E ora di dipingere Oh che giornata Sono esausta A volte è proprio strana Adoro questa tonalità di blu La mia preferita Wow Che diamine Guarda quanta polvere Questo posto è un disastro Oh Ha un po' di sporco sulla spalla Grace Fermati Sto dipingendo qui Ma è una piccola macchia proprio qui Grace Sono seria Tutto è più bello Quando è pulito Ecco Ora ha un aspetto ancora più gradevole Dentro Mi tocca salire sul davanzale Ah Mickey? Ehi È la mia occasione per pulire la tela Il dipinto Cos'è successo? Grace Sto pulendo il tappeto Oh La pagherà per questo E so anche come Vediamo È qui dentro? No? Perfetto Via libera Eccolo lì Il suo secchio per le pulizie è preferito Sarebbe un peccato se della vernice blu ci finisse dentro Non sa cosa la aspetta Psss Ora cerco un nascondiglio e mi godo lo spettacolo Pulire è un lavoraccio Sì Ecco che arriva Meno male che ho quasi finito Ma che? Ah È tutto blu Sì Fregata Mickey La pagherai Meglio lavarsi prima di cena Sapone Acqua calda Una bella lavata alle mani Ehi Questo sapone scivola un sacco Non riesco a prenderlo Oh no Adam Attento al sapone volante Wow Che è successo? Adam Mi dispiace tanto Stai bene? Com'è che mi chiamo? Oh no Cavolo ho fatto un disastro Come faccio ad alzarti? Eh? Mi ero scordata di questi guanti Anzi credo di aver appena risolto il problema Su una pentola di acqua bollente Fondete insieme dei cubetti di sapone trasparente Non appena inizia a liquefarsi Aggiungete un po' di colorante alimentare nella ciotola Poi aspettate che si sciolga del tutto Mescolate pure un po' Togliete delicatamente dalla pentola E versate il contenuto in un guanto di gomma Attaccate una ventosa proprio sopra Premete con forza Poi aspettate che il sapone si indurisca Per rimuovere il guanto Tagliarlo con cura con un taglierino Poi staccate il materiale scoprendo il sapone indurito Sembra interessante? Ehi! Sembra una mano vera! Attaccatela al muro sopra il vostro lavandino E quando dovrete insaponarvi La vostra creazione vi darà una mano Così! Niente sapone volante Ai! È sapone? Adam, va tutto bene! Ho risolto il problema una volta per tutte Che cos'è quella cosa? Va tutto bene, Adam! Dammi il cinque È davvero come il sapone! Niente male, eh? Piacere mio, signora mano di sapone La mia testa già sta meglio